Simone Contu, match winner di questo derby, tu hai giocato a Muravera, sai con quanto sono sentite queste gare, poi avete giocato anche in Coppa Italia, racconta, partiamo dal gol, perché ha sorpreso tutti, compreso Pioli che hai salutato poco fa. Lì ho fatto l'uno contro l'uno, eri vicino alla bandierina? Sì, sì, mi è uscito un tiro, l'ho preso quasi di collo, non lo so, è partito un tiro atteso e per fortuna è entrato. Lo stavi cercando, lo stavi crossando? Non si dice questo. Lasciamo il dubbio. Senti, l'importanza di questa vittoria sia per la classifica che per il morale è considerato che poi il Muravera, l'abbiamo ricordato, in Coppa Italia l'aveva eliminato ed è sempre una gara un po' particolare e difficile. Sì, a parte la Coppa Italia, poi comunque il derby qua è molto sentito, ci tenevano tanto e ci tenevamo tanto anche noi, poi per la classifica ho saputo che hanno pareggiato tutti e due, se non sbaglio. Siete secondi e un punto dalla vetta. Quindi è stato ancora più importante questa vittoria. Senti, dove l'avete vinta? Tutti stanno dicendo che doveva sbloccare un episodio. C'è stato l'episodio, però poi comunque siete stati molto bravi anche a mantenere la parità. Avete capito che rispetto ad altre gare dove avevano anche rimontato l'Atletico Uri in casa, dovete non concedere più nulla? Sì, diciamo che questa partita proprio bisognava vincerla per forza. Quindi in tutti i modi ci abbiamo provato, ce l'abbiamo fatta e dietro abbiamo dato tutto e quindi non si passa. Senti, hai giocato titolare, oggi eri in panchina. Il tuo gol e la tua prestazione dal di fuori viene giudicata positiva perché? Perché sei un gruppo. Chi entra dall'apporto che deve dare anche se sono 15-20 minuti, sei d'accordo? Sì, sì, certo. Siamo un bellissimo gruppo, un gruppo molto unito e chiunque gioca da sempre il massimo, sia che entri dalla panchina sia che giochi titolare. Oggi per esempio io sono entrato dalla panchina e ho dato tutto. Non so neanche quanto ho giocato, ma ho fatto quello che dovevo fare. Senti, a che punto sei con la condizione? Ti abbiamo visto giocare bene l'anno scorso con la Nusei, bene lo stesso con Muravera. Qua non è facile mantenere il posto che giochi diciamo dei fuori quota? Non è semplice, giusto? No, quest'anno sto trovando più difficoltà, però è meglio così perché siamo una squadra forte e quindi è giusto che sia così, che ci sia competitività. Quindi diciamo che quando il mister mi mette dentro io mi faccio trovare pronto. Senti, invece domanda del look. Da cosa dipende? Ha portato bene? Se tu hai il cappello, prima abbiamo visto il sembrato in campo, eri completamente rasato. Diciamo che mi stavano stressando tutto il tempo i miei compagni, alla fine ho detto dai, diamoci un taglio. Ha portato bene. Magari sarà un'esultanza per il gol. Senti, questo gol a chi lo dedichi? Perché da difensore, da esterno, hai fatto anche l'attaccante, il centrocampista e tutto, però segna più mesina per voi. Sicuramente. C'è una dedica? Eh, lo dedico ai miei che sono venuti a vedermi, che vengono sempre e mi sostengono. E anche una dedica speciale che però... Lattini per te. Esatto. Va bene. Senti, invece, guardando la classifica, le tre squadre erano racchiuse in due punti. Torres e Atleti Corri stanno risalendo. Il Muravere è sempre lì a 18. Avete scavato un solco, però è difficilissimo, perché poi domenica scorsa vi state pareggiato alla Monastire. Sì, sì, è un campionato molto difficile, non ci sono ovviamente squadre materasso. Noi tre che siamo lì su ce la giocheremo sicuramente fino all'ultima giornata, quindi sarà tutto da vedere. Senti, come vedi questo Castiadas? Adesso che state incontrando un po' tutte. Il Mister si è sempre, diciamo, traverrete lamentato di questa corazzata qua. Non siete una corazzata, ma siete una bella squadra e lo state dimostrando perché tra l'altro siete l'unica in battute. Sì, siamo sì una bella squadra, ma soprattutto siamo un grande gruppo e penso che la forza del gruppo ci stia aiutando molto dall'inizio del campionato. Grazie Simone, complimenti per il gol, per il look, perché poi quando si dà un cambio ci sono delle novità. La novità è che ha portato il gol, è importantissimo, sai bene il derby, l'hai vissuto in tutte le salse in Serie D, con una maglia e con l'altra. Quindi complimenti ancora a te. Grazie.